Buongiorno a tutti, molto piacere ragazzi, prego, accomodatemi, allora, che mi dite? Io devo continuare per il terzo della parte e la prossima è che ci sono fatti. Ah, bene, bene. Qualcosa di nuovo, situazione, il pubblico amicante ambientale, ah, gli ecco rifugati, come infatti. Bene, allora, questo lavoro come nasce? Come nasce? Come nasce? Buongiorno a tutti, prego, buonissimo, soprattutto nel 2015, soprattutto sulla differenza tra migrante e che documenti avete consultato. E perché non veniva considerato un migrante ambientale un rifugiato? Dal punto di vista dei tempi della Convenzione di Gilevra, perché la Convenzione del 51, quindi l'avete contestualizzato, immagino, con i cambiamenti climatici si sono fatti sentire, no? Il clima ha cambiato.